Ebbene, Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia. Avete capito bene, cari utenti di YouTube, infatti pensate che la procura di Manhattan in data odierna 25 maggio 2018 ha avuto una incriminazione attuale, quindi recente, nei confronti dell'uomo in questione da parte di una donna che avrebbe segnalato all'autorità giudiziaria che sarebbe stata costretta a praticare una fellazio a lui, il re dei film per eccellenza, e quindi sarebbe arrivata la incriminazione nei suoi confronti. Harvey Weinstein dunque sarebbe, diciamo così, stato egli stesso a consegnarsi direttamente alla polizia di New York negli Stati Uniti d'America. Vi ringrazio, ti ringrazio per la visione e per l'ascolto del presente video. Iscrivetevi se volete, commentate se avete la necessità. Un caro saluto e al prossimo video da Narratore Italiano.